Allora, buongiorno e benvenuti. Questa mattina facciamo una lezione dove parliamo un po' del vostro tempo libero, dei nostri gusti e delle nostre preferenze, cioè di quello che ci piace fare, di quello che ci diverte fare, di quello che amiamo fare nella nostra vita. Poi faremo un po' di grammatica e parleremo dei verbi della seconda coniugazione del presente indicativo, che voi sicuramente conoscerete già, ma facciamo un bel ripasso. Musafà, cosa ti piace fare nel tempo libero? Nel mio tempo libero mi piace fare un po' di sport. Un po' di sport. Carmen, che cosa ti piace fare nel tempo libero? Nel mio tempo libero mi piace navigare su internet. Se ho, se no. Se c'è. Se c'è. Ok, qualcun altro? Doina? Se c'è più tempo libero che nel fine settimana magari andare in montagna. Andare in montagna? Qua in Italia nel mio tempo libero. Quando c'è tempo libero? Nel mio poco tempo libero. Nel tempo libero qua in Italia quasi non ce l'ho. E gioco la calcio, giro con amici. Il mio preferito andare in giro così, senza nessun pensiero, proprio vagare. Faccio un po' di sport, ogni tanto esco con i miei amici, facciamo in giretta nella città. In Italia si possono fare tante cose. C'è qualcosa che nel vostro paese facevate nel tempo libero e che qui non fate più? Minuti. Minuti. No, più o meno uguale. La vita che facevo di là nel tempo libero la facevo anche qua lo stesso. Perché o vai a fare la camminata con gli amici, o fai un po' di sport, o leggere libri o cose del genere. Più o meno le stesse cose. Più o meno le stesse cose. In Marocco, nella giornata di domenica andiamo al bar, poi lì nel bar facciamo i giochi. Ci sono tante cose da fare lì nel bar. Però soprattutto solo per divertirmi con i miei amici. Quindi la vita in Italia nel tempo libero è abbastanza simile. Va bene, andiamo avanti. Giriamo pagina. Abbiamo tre persone che parlano. Chi è che prova a leggere? Vai. Nel mio fine settimana mi piace riposarmi, ma anche divertirmi e stare con la mia famiglia. Il sabato mattina dormo circa fino alle dieci. Poi mi alzo e vado a fare la spesa. Nel mio mercato preferito porta palazzo. La sera esco con i miei amici, prendiamo un aperitivo, ceniamo insieme e poi andiamo in discoteca. La domenica vado a trovare la mia famiglia e pranzo con loro. La sera vado al cinema o al bar, o a bere qualcosa con i miei amici. Nel tempo libero esco con i miei amici. Nel tempo libero... In Marocco avevo un po' di tempo più libero. Che cosa mi piace fare? Mi piace andare al cinema, mi piace andare in giro, vedere delle cose belle. Scopro, anche se sono da tanto tempo qua a Torino, scopro ancora delle cose nuove. Non so, dei palazzi, dei dettagli, dei particolari. Anche dei quartieri dove non sono mai stata. Allora, adesso arriva Luca. Chi legge? Dai Carmen, vai. Per me il fine settimana significa riposo assoluto. Il sabato mattina mi sveglio tardissimo. Faccio colazione a letto e non mi alzo prima delle due. Nel pomeriggio sto a casa, navigo su internet e chat con i miei amici. La sera guardo un film in DVD o un programma alla TV. La domenica leggo un libro e gioco alla Playstation. Ah, che bello riposarmi. Carmen, che cosa fai nel weekend? Per esempio, il sabato mattina vado a lavorare. Ah, anche il sabato mattina? Sì, fino a mezzogiorno. Poi vado con mio marito a fare la spesa. E poi nel tempo che mi rimane pulisco la casa. Il sabato faccio la spesa, che è la cosa necessaria per tutta la settimana, di tutta la famiglia. Poi la sera sto in casa con la famiglia, che guardiamo qualche programma, ce ne andiamo insieme. Ok, quindi si rimane abbastanza tranquillo. Tranquillo. Qui sotto abbiamo una piccola statistica e ci dice Nel tempo libero ti piace uscire con gli amici? Sì, più o meno o no? Sì. Sì, Yunis. Yunis, sì o no? Sì. Sì. Navigare in internet, tali? Più o meno. Più o meno? Perché più o meno? Perché uso l'internet solo magari per contattare la mia famiglia lì giù. Ok. Qualcun altro di voi usa internet per contattare la famiglia? Anche a noi. È comodo. È comodo, è? Meno costa poco. Costa poco. Yunis, ti piace fare acquisti? No. No? No, questo secondo me è per le donne, non per io. Solo per le donne fare acquisti? Doida? Molto. Molto. Che cosa ti piace comprare? Vestiti. Vestiti. Nava? Sì, così, scarpe, forza, qualcosa, i vestiti così. Vestiti da vestire? Sì. Mangiare fuori, mangiare al ristorante, vi piace o è meglio mangiare a casa? Sì. Più o meno. Più o meno. Ok. Doina? Sì, più o meno. Quale ristorante ti piace? Ma tipo quelli self-service che giri poi ti scegli. Scegli quello che tu... Sì, sì, fai un po' da te. Guardare i film? Da là. Ti piace guardare i film? Jackie Chan. Jackie Chan. Di movimento. Mi piace andare al cinema, mi piace molto. Cinema non mi piace tanto perché non mi piace stare ferma e stare tanto al chiuso. Che tipi di film possiamo avere? Allora, possiamo avere film d'amore, romantici, camion d'azione, storici. Poi... Thriller. Cosa significa thriller? Di terrore, di orrore. Che io li guardo e... Fa paura. Fa paura. E dopo vado a dormire con la luce accesa. Yuan, che film ti piacciono? Mi piace film d'azione. Film d'azione. Parliamo di ballare. Mi piace o no? Mustafa, sei un ballerino? No. Di la verità? Non sono capaci. No? Non sono capaci. E neanche ballo marocchino? No. Niente. Doina, sei capace. Che cosa ti piace ballare? Ah, in discoteca. In discoteca. Giovanni, dimmi che balli. Di pancia. Salsa. La salsa? Ah, beh, è una bella notizia. La salsa, così trovi qualche fidanzata nuova. Sì, sì. Ok. Il Museo Naziale del Cinema di Torino è uno dei più importanti del mondo e si trova all'interno della mole antoneliana, simbolo della città. Il museo racconta la storia del cinema. Ok. Che cosa vuol dire simbolo della città? Un luogo più famoso. Un luogo che proprio ci fa pensare alla città. Alla città. Musafà, tu sei di Casabranca? Sì. Qual è il simbolo di Casabranca? La grande moschea. La grande moschea. Nava, di che città sei? Eh, Tirana. Di Tirana. Qual è un simbolo di Tirana? Eh, c'è un museo, un museo. Museo? Sì, un museo che va tutti, così si fa visitare di là, c'è tutte le cose dentro. Ok, un museo di cosa? Un museo di antica, vecchia. Di antichità? Sì. Ok, fai avanti tu, vai. I visitatori parlano, scrivono, fanno un viaggio nella storia del cinema. Ok, che verbo scegli? Parlano. Fanno. Fanno. Eh? Fanno un viaggio nella storia del cinema. Non sono mai stato nel museo del cinema, poi a Torino. Mai. Lo sento, però non sono mai adatto di là. Sono stato nel museo del cinema. Mi è piaciuto bene. C'è qualcosa molto interessante. Tante informazioni sulla storia del cinema in Italia, anche internazionale. Passeggiano tra un ticket, macchine di presa, scanografie, scenografie, cantine dei film più famosi di tutti i tempi. I visitatori più coraggiosi salgono in cima alla mole antoneliana con l'accessore panoramico e da qui prendono il panorama della città. È giusto, prendono il panorama della città. Meglio ammirano. Giriamo pagina. Avete visto che nel testo ci sono un po' di verbi? Il verbo prendere. Io prendo. Tu, lui, lui, prende, noi, prendiamo, voi, prendete, loro, prendono. I verbi irregolari sono più facili perché c'è una regola, però i verbi irregolari sono un po' difficili. Imparare i verbi è abbastanza facile, secondo me, ma perché comunque sono sempre nell'orecchio in qualche modo, sì, sono già conosciuti. I verbi in marocchino sono un po' facili. Non è come qua in Italia. Il verbo chiedere. Mustafa, vai. Io? Io chiedo. Doina, tu chiedi? Lei chiede? Lei chiede. Noi chiediamo. Voi chiedete. E loro? Chiedono. Chiedono. I verbi è regolare oppure irregolare, però sono troppo complicati, sono troppo difficili. Poi ci sono magari le forme del plurale che sono più complicate e quindi vanno più esercitate, però secondo me i verbi comunque si imparano abbastanza facilmente. Sono troppo difficili. L'ultimo, il verbo scendere. Io? Scendo. Scendo. Tu? Scendi. Lui? Scende. Noi? Scendiamo. Voi? Scendete. E loro? Scendono. Molto bene. Quando ho parlato dei verbi irregolari mi sono stupita perché ho visto che le forme comunque erano conosciute anche a livello ortografico e anche quindi in realtà posso dire che quello che facciamo qui a livello grammaticale è un consolidamento più che un insegnamento. verbi irregolari sono più difficili, però essendo più particolari restano anche più impressi proprio perché sono un po' speciali. Giuseppe, il verbo sapere. Io? So. Prima, so. Tu? Sai. Lui? Noi? Noi? Siamo. Siamo. Sappiamo. Voi? Voi sapete. E loro? Sanno. Sanno. Allora, andiamo a pagina 9. Abbiamo un disegno di che cosa? Una tavola da mangiare. Di una famiglia che mangia a tavola. Allora, vorrei che voi mi diceste tutte le cose che ci sono sul tavolo. Il cibo. Il cibo. Il cibo. Il generale. Il cibo. Qui in Italia il piatto preferito per me è la pasta. Però il Marocco è il couscous. Il piatto che mi piace è un piatto con le carni, con le carri, le verdure e i peperocini. Perché mi piace il piccante. Poi? I bicchieri. I bicchieri. Piatti. Piatti. Tovaglia. Le busate. Le busate sono tante. Come si chiamano le busate? Forchetta. Contelle. Contelle. Poi? Quello piccolo. Chiellino. E poi si scrive. Allora, c, u, c, i, h, no, doppia c, va bene. H, i, a, i, n, o. Poi, che cos'altro c'è sul tavolo? C'è il pane. Le bentole. Questa pentola qua, ecco, sì, questa è una pentola. E questa come si chiama invece? Padella. Padella. Ali. Sì. La padella, come si scrive? P. P. T. A. Di. Di. E. 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 In francese. L. 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 Altra L. A. Allora, qui c'è una tavola abbastanza normale. Secondo, se fosse la vostra tavola, che cosa aggiungereste, Giovanni? Peccolo. Un po' di fiori. Un po' di fiori. Cosa aggiungeresti? Toglierrei. Toglieresti? Cosa c'è di troppo? Eh, ste pentole, padele. E come si mangia? No, vado, mi prendo, non so, dove sono, in cucina, mi porto solo il piatto. E le pentole non le porto? Sì, non mi piacciono proprio le pentole. Non ti piacciono le pentole sul tavolo, va bene. Alink ci mettiamo ancora. Che zainate? Basta. Raggiungo magari un piatto di dolce. Un piatto di dolce? Altre cose da mettere sul tavolo? Porta cenere. Porta cenere. Allora, a pagina 2 c'è una signora che fa così. Cosa vuol dire? Ti voglio bene, ti bacio. Manda un bacio. Perché? Ti voglio bene, mi sento. Eh? Ti voglio bene. Ti voglio bene. Cosa vuol dire quando un italiano fa così? Buono. Buono. Che una cosa è buona. Gli italiani fanno tanti gesti quando parlano. In Marocco non usano i gesti. Per esempio, fanno così, significa cosa vuol dire. Così voglio dire cosa vuoi. Poi... Stupido, no? Stupido. Fanno così. O fanno così, che significa di andare via. Qual è qualche altro gesto degli italiani che mi piace? Così? Così. Cosa vuol dire così? Perfetto. Perfetto. Questo? Allora qui si parla di più con i gesti. Ad esempio così. 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 Tanti. Questo cosa vuol dire? Oh. E questo? Questo vuol dire? Questo? Vai via. Altri? Mustapha? Così. Che i marocchini fanno sempre così. Fanno una cosa bella. So che è interessante che in cinese fanno i numeri con le mani messe in un altro modo, ma non l'ho mai imparato. proviamo a parlare delle previsioni del tempo. Guardate la pagina 10. Ci sono le previsioni del tempo. Allora Mustapha, leggimi i tipi del tempo. c'è il sole, c'è il sole. C'è il sole, c'è il sole, il nevoso, piove, temporale, nevega. Neve. Allora, chi è che vuole venire qui da me a dire il meteo di domani? Rispetto al gioco di ruolo che abbiamo fatto oggi, mi è piaciuto sicuramente l'approccio che ha avuto Mustafa, che è molto simpatico e comunque, anche se magari aveva un po' di difficoltà effettive, le ha sviate bene ed è stato molto simpatico, molto carino. Signore e signore, buongiorno. Oggi vediamo le previsioni per il tempo per domani. Ero un po' esitato, ma alla fine sono andato e ho fatto un po' di previsioni sull'Italia. A nord-est sarà il tempo nevoloso e un po' di sole. A nord-est il tempo sarà un po' nevoloso e piove. Signore e signore, buongiorno. Andiamo alla cartina per le previsioni di oggi. Mamar bravissimo perché si è visto che si stava divertendo e che era entrato proprio bene nella cosa. Andiamo al centro d'Italia. Sarà un po' chiara, un po' di sole. Del sud e verso un po' al centro. Signore e signore, grazie e benvenuti. Grazie. Bravissimo. Tutti hanno riso e si sono divertiti perché effettivamente era molto sciolto e sembrava proprio che fosse il suo lavoro. Allora, buonasera, adesso le previsioni del tempo per domani. Al nord un po' nuvoloso con possibilità di precipitazioni, ma anche zone con del sole. Al centro sarà un po' più brutto e arriverà anche la neve sui rilievi. Al sud, isole, bel tempo. I mari poco agitati. Buonasera. Brava, bene. Grazie per essere venuti oggi, ci vediamo la settimana prossima, adesso se andate sulla piazza trovate il tè e lo possiamo bere insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti.